Il master di primo livello per specialista in problematiche dell'adolescenza nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo vuole rappresentare un percorso di alta formazione in grado di progettare e realizzare sia in ambito scolastico sia in ambito extrascolastico degli interventi in favore dell'adolescenza e in particolare formare un esperto come previsto dalla legge 71 del 2017, un esperto nel contrasto alle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo che purtroppo oggi rappresenta una vera e propria patologia sociale. Il master si svolgerà in modalità integralmente digitale con lezioni in modalità sincrona quindi in diretta ma contemporaneamente registrate e quindi fruibili in qualsiasi momento.